Regione e Anci di Basilicata ricorreranno al TAR per scongiurare la chiusura degli sportelli postali in alcuni comuni lucani. E' quanto emerso al termine della riunione che si è tenuta in Regione a seguito delle manifestazioni organizzate dai sindaci e dai comitati locali. L'Anci di Basilicata ritiene ingiustificati i provvedimenti di chiusura e razionalizzazione e ha chiesto alla Regione Basilicata e alle province di Potenza e Matera di intervenire in maniera decisa interessando della questione anche le assisi consigliari per favorire un'intesa composta italiana.